Buonasera a tutti sono Luigi un'altra cosa preferita mentre se vende di singh grand cross versione global con l'analisi del secondo limited pg del gioco dopo aver visto lo stu main che è andato prepotentissimo su uno dei migliori dps del gioco per quanto riguarda set completo perché single target derriere leggerissimamente più pesante in ultimate ma anche una volta abbaffata in single sinceramente parliamo per quella che ancora oggi nel globo nel già probabilmente il miglior supporto del gioco ovvero elisabeth god avete tutti visto la mia epopea nel cercarne una copia presa alla final pt che mi ha dissanguato delle gemme però quello è il passato andiamo a vedere questo pg blu che cosa in grado di fare allora eccoci qua s1 a livello 1 200 per cento attacco nemico a livello 2 livello 3 va 200 250 attacco e stan a un nemico già qua iniziamo a vedere le cose abbastanza interessanti lo stan con la l3 con la livello 3 dura due turni come sapete lo stan non è come il freeze se il nemico viene colpito rimane stannato davvero ottima skill di controllo arriva anche a fare qualche danno nonostante io consigli la build hp def che quindi non arriva chissà quali danni cosa non vera perché la mia con hp def arriva comunque a 11.000 d'attacco così perché lei può 11.000 d'attacco lei può no comunque a parte gli scherzi arriva valori d'attacco abbastanza alti sta ragazzina quindi davvero buona non è la skill che distruggerà i nemici però gli picchierà abbastanza pesante quello è poco ma sicuro e il fatto che li può stannare soprattutto in pvp dove questo pc è praticamente onnipotente onnipotente ogni presente esclusi stagioni particolari risulterà più che efficace la s2 la goddess bless allora la goddess bless è tipo lo scudo di merlin avete tutti presenti lo scudo che merlin fa con le s2 con un pochino di differenze ovvero come lo scudo di merlin si basa sull'attacco quindi va da 150 a 300 per cento di attacco come scudo dura un solo turno a livello 1 e 2 due turni a livello 2 quello che cambia è che oltre a regalare lo scudo ha anche il potenziamento che quando si subisce quando si subisce danno con lo scudo attivo non vengono conteggiati eventuali buff abilità speciali dello stesso attacco esclusa rottura ovvero il fatto che il nemico a danno per due o comunque danno aumentato nel momento in cui avete voi dei buff questo è sia un punto di forza che un punto debole sotto molti aspetti punto di forza in generale perché non subite danni critici e similari punto tra tantissime virgolette debole ma proprio tantissime virgolette perché non subite critici sullo sleigh ma non importa c'è davvero il migliore scudo del gioco e fidatevi che può salvarvi da diverse situazioni scomode la special goddess pattern è la roba più barata a mio avviso che a mio avviso che esista nel gioco ricarica del 30 per cento gli hp di tutto quanto il team intanto dopo di che vi mette uno scudo particolare per due turni che dopo aver subito danni vi permette di riflettere il 40 per cento di quei danni e di ricaricarvi della metà del danno robe ragazzi robe fa un male che la metà basta vi cura vi protegge vi ricura una delle altre migliori del gioco nel video pool mi ero preso male di non trovarla qui sono detto un po di cavolate perché in realtà ragazzi basta averne trovata una e siete a posto cioè questa non è una skill che deve far danno è una skill difensiva certo maxarla vi permetterebbe di lanciare una special che riflette un botto cura un botto e tutto quanto però è comunque una special e lei non ha modo di baffarsi in maniera incredibile le orb come può essere lost vein che essendo il dps principale di quasi ogni team pvp o giù di lì in realtà ora sono nati dei team soprattutto nel jap pierce in cui gaio non è lost vein cambia poco o nulla vero arcangeli aspettate che arrivino gli arcangeli poi vedrete e quindi in realtà si può tranquillamente tenerla e sia uno essere a posto la semplicemente il fatto che mi stesse continuando a uscire lost vein un pochino mi ha depresso in realtà non è neanche troppo problema perché continua a uscirmi lost vein mi prendo i coin per scambiarlo con altri pg la passiva ragazzi che cosa si può dire della passiva se non che davvero davvero forte in pratica questa abilità permette al primo personaggio del team che muore di tornare in vita con gli hp che aveva prima di morire quindi in realtà io stare attenti perché per tuo personaggio a 5 hp muore torna in vita torna in vita con 5 hp quindi attenzione anche voi come lo utilizzate perché naturalmente si spera che il vostro personaggio abbia un po più di hp soprattutto per quelle morti da altime single target o anche da altime multi target che fanno davvero tanto male può essere annullata in mirror match da un'altra elisabeth in quanto i danni da da riflesso quindi quella della sua special annullano questa abilità quindi è anche il counter di se stessa cosa posso dire inoltre ottime statistiche abbiamo 5 60 attacco comunque 70 per cento di perserezza 5 per cento di di mio pc del gioco assolutamente sì pg enorme ma davvero enorme che ragazzi è un master chiunque di voi abbia il gioco deve pullare una copia poi può fermarsi non è come lo sven che senza averne almeno 3 4 copie perde abbastanza no lei una copia siete a posto e poi tenetevi perché benché questa settimana siamo in pausa perché c'è gloxinia quindi stato bello ma non me ne fotte un gazz attenzione perché qua ci avviciniamo a roba grossa gli arcangeli sono dietro la porta speriamo esca quel cavolo di evento del movie totalmente inutile speriamo esco un pochino di robette inutile in modo da avere tempo per risparmiare altrimenti qua ci becchiamo davvero king a natale buonanotte tutto questo vediamo sono di seguito noi ci vediamo al prossimo video buona serata e si lo so veder super saiyan 4 sudocca ne parleremo